Dopo alcuni anni, ecco che in laguna torna l'emergenza bricole. I grandi pali di legno, a causa della continua erosione da parte dell'acqua della laguna, hanno cominciato a marcirsi, rilasciando rami di legno pericolosi per i natanti. I primi segnali di cedimento si erano registrati un anno fa, quando i comitati avevano protestato contro la mancanza di manutenzione. Ad oggi le criticità non sarebbero state risolte nonostante la presenza dei fondi. E quindi attenti quando andrete in barca, perché potreste sempre incappare in una bricola errante. Sfishing Bar Channel News, Venezia